Allora, ho sbloccato il prossimo... cosi, i prossimi mob. Ah, ci faccio queste cose. Che non mi fa? Click, kill, type. Sipes. Permane 1 di crit damage, recluse fank, torrent allo sin. Ok, ho sbloccato il prossimo tipo. Zwen, kill wall. Fond in the home. Dove stava il castello? Da che cazzo era? Quello? Maledetto, uno degli altri mi ha utilizzato per il tuo boss. Stai cercando? Non ho capito. Eccoli, wolf. Ciao. Ah, piccoli wolf. Ai wolf sono il castello, sì. Ah, sì, non trovo il castello. Corelli. Non è easy da battere. Non ho niente di vita. Forse questi salgono un po' di livello dentro. Vediamo. Sta un... Mamma lupo. Sta un old wolf. Aia. Boh. Ok. Aia! Fa malissimo. Ma perché qualunque mob di instalobby fa malissimo? Qua... C'è un lupo che spona tipo ogni tanto che è fortissimo. Eh, c'ero anch'io morto quando avevamo fatto i feri. Non so, capisco perché li farmano con l'arco. È vero, posso usare l'arco. Uso l'arco. Tu hai l'arco power, io non ce l'ho. È vero, posso spammare frecce a caso con l'arco? Tra poco... Tra poco ho bisogno della mano con la boss degli zombie. Aspetta, io sto finendo. Voglio killare uno al duolf. Aia! Aia, sono caduto un botto. Secondo me se ci danno un nuovo minion slot, ci conviene tornare a fare minion. E sbloccare un altro slot. Wolf. Ovviamente comprandoli. Radiant power orb. Place an orb buffering player. Ok, da vita. Poi un red claw talisman crit damage. Tu lì. Donna, c'ha due milioni di vita a sto coso? Ogni tanto spono un revenant psycho o qualcosa. E... E per... Per killarlo, tipo... Ti allontani. C'è un wolf con duemila di vita. C'è due milioni di vita. Oh! Due milioni. Due milioni di vita. Eh! Quello si è messo in un posto... Buggato che lo ha il tavo. Ok, ho finito questa dei lupi. Quanto sei con lo zombie? Eh, sono... Manca pochissimo. Vieni. Mi conviene... Se lo riesci a portare fuori... Sì, sì, lo porto fuori. Cerca di non dargli l'ultimo hit. Ma tanto lo prendi sempre tu il loot. Conta a te che le do sempre. Dove sei? Anche se lo do a te il loot. Sono 50 su 73. Sono morto. Arrivo. No, ma credo che te lo conto a te. Se no... Siamo se riusciamo a trovare un punto in cui ti puoi mettere in alto se che non ti hit. Ok, qua. Eh, ho trovato. Lo so. Dove? Troppo. Qua, con la... Arrivi. Qua è lo hit. Potrebbe essere un piano. Però ho hit da distanza, aspetta. Quello hit da distanza. Lo testiamo, lo testiamo con uno di questi. Eh, no, ma quello c'ha tipo un attacco hit a distanza. Perché io posso scappare, non farmi uccidere. Però ho bisogno di aiuto nell'ucciderlo, poi. Perché io ho con la... Col mana... Ho 700 di mana, quindi. Dei, scena. 54 su 73. 95. E' sponato a caso un altro. Ogni tanto esplodono e sponano. Quello fa male. Troppo fa... Perché non mi fa vedere i crafting dell'acqua con le stringa? Quello lì che spona a caso. Bisogna vedere se anche il boss è così. Quando spona a caso così, se tu ti allontani, lui non ti aggra. L'ho scoperto prima. Ah, ma tu utilizzi gli zombie set. Non danni un po', non ti aggra. Sì, ok. Ma quello lì ti trisciotta. Ottimo. Quello ti roba, avrei dato un bel po' di roba. Mi ha inventato una Revenant Rottenflash. Sono 60 su 73. Ma ne manca uno. Sì? Sì. Ci sei? Quanti ne mancano? 11. Però esco prima di 11. Mi sono fatto un livello d'exp killando gli zombie. Sono a livello alto. 8. Eh, non so, sto di combat. New skill. Combat sto al 20... 18 io. 19 mi servono 100k. Sono a 69 su 73. Sono morto. Sei morto. No, ma va bene così. Perché deve essere notte quando devo fare sta cosa? No, ma va bene così. Sei pronto? No, sì, sì. Dove sei? Sono fuori dal coso. Fuori dalla caverna. Vabbè? Eh, 377 su 389 di quelli piccoli. Vieni con me. Cioè, lo faccio qua fuori. 378... Mettiti poi sopra uno di... Un punto... 381... Te la lo spawni in scappa. 382... Sto rigenerando il mana ora. Sono pieno di vita, ma non mi one-shotta. Non è che one-shotta solo che c'è 400k di vita. È abbastanza difficile da tirare giù. Vabbè, il problema non è che ti one-shotta, è che... Sì, è a lungo andare, po'. Ok, poi c'è degli attacchi... Il prossimo che killo... Parte. Metti tipo qua sopra anche, tipo... Guarda. Un punto dove non ti hita. Ce l'hai l'arco? Hitalo con l'arco. Sì. Killo uno con l'arco. Ah, ma c'è un tempo per killarlo, ok? Eh, no, no. Mi hitava da sotto! Eh, perché c'ha gli attacchi da distanza. No, ma mi hitava attraverso i blocchi. Eh, non è, no, no, c'è un attacco da distanza, tipo. Sono deluso. Parla delle cose. Vado a fare i ragni in tier 2, va? No, vado a fare gli... Cos... No, tre le da risa. Ok, io mi ho finito il boss. Ma li ho finiti, cioè. Penso ho finito le cose da sbloccare di... Oh, ho sbloccato una cosa? Hitame... L'avevamo fatto il... Mantox? F***a testa, copa! Right click to... When it's not easy. Pre-kill... Mantox? F***a testa, f***a testata, f***a. Ho sbloccato un item. Che sticca cosa? Trash... Trash. Piderist. Cos'era duemila per... Oh, due resisti invece. Sì, era duemila per i ragni. Io fare... Il... Ilu. vai a provarla poi vai a provare tu adesso gli spagnoli spagnoli e i zombie tier 3 il tuo torno l'ho già provato non ci riesco va a fare così in wolf ha fatto tutti al 2 per ora dal 2 in poi diventa noggio possiamo fare sti ragni un trauma 59 kg grazie Ok, sono al terzo piano. Credo che avessi avuto queste quest mentre farmavamo per i minion. È il boss! È il boss! Ho trovato il boss, zio! L'ho finito. Radiant. Cos'è sta cosa? Radiant. Dei secondi di Radiant. Ah, è un buff. C'è uno, sì. On. Cos'era? Eh, ti dà... aumenta l'ealing e non so cos'altro. No, l'ha presa lui la testa di Toxie. Boh, è inutile che mi guardi. Mi ha stillato il boss, maledetto. Quindi per due ore in sto lobby non suonerà il boss, teoricamente. Oh, non so. E' difficile il boss dei ragni. Basta i ragni, no? Possiamo anche craftarci un po' di Golden Nation, Apple o un po' di Healing Potion. Volendo. E poi riprovare il boss degli zombie. O magari farmiamo il tier 2. Sti archi aiming sono troppo overpower, però. Sì, gli archi aiming sono qui. Ma continua a rigenerare vita, sto coso? Continua a rigenerarsi. E chi? Lo lupo. Che tier ha? Ok, finito. Il tier 2. Sì, non lo so. Continua a rigenerarsi, tipo. Per un momento, tipo, si era tutto rigenerato. Ma l'hai fatto velocissimo. Amster will increase the speed of your minion for 1d. Il 50%! Per un giorno. Che cosa? Non so, mi ha droppato un item che mi aumenta la velocità dei minion per un giorno del 50%. 50%. 50%. So come se avesse due lava bucket. Andiamo a se si può craftare in qualche modo, oppure... Ah, è un drop, è un drop dei cosi. Questi... Dei lupi? Dei lupi, sì. Ah. Lo stavo per chiedere. Provare a fare sto lupo. Il lupo è easy da fare. Ti metti un bug. Faccio i lupi, quasi, quasi. E c'è meno gente? No, non è che c'è meno gente. Ti metti solo in glitch, tipo, e... Basta che li killi. Però credo, c'è un milione di vita, non so se ce la faccio. Wolf Slayer level 3. Permanent speed. Questo dà speed, invece. Golden. Tutto matbox. Ah, figata. Allora, dobbiamo fare sto minion, zio. Da che minion lo metto, il coso? So che si chiama Raven and Minion, ma non so come sbloccarlo. Non ne ho idea. No, no, giusto, non lo so. Forse si sbloccano. Più avanti. Da chi lo metto, sto coso? Hamster wheel. Mettilo come in mezzo di gas. Come in mezzo di gas. Sì. Ok, va da 38 secondi a 25. Figa. Ok. Nice. Prova a vendere uno stack di gas tiri incantate. Se vuoi. Te lo dico perché ormai a farlo ci mettiamo un minuto. No, non un minuto, però. Radiant power orb. Rad. Per fare il boss tier 2 dei ragni. Mh, quasi, quasi... Provo... Non so, dico gli zombie. Cioè, per 5 stack di gas tier sull'AH ti davano più di 50k. No, forse un po' di più. Forse ora ce lo... Con 2.500.000 forse ce lo compriamo una cosa. Una Pigment Sword. Una Pigment? Mh. Ma dici... Ah, dici che è meglio quella o è meglio la... L'Aspet of the Dragon? Più o meno sono uguali. L'Aspet of the Dragon... No, prendiamo la Pigment allora. Cioè, sono quasi uguali. È un pochino più potente l'Aspet of the Dragon. Dici? Io avrei detto più potente la Pigment per il crit damage. No, non ho ricordo. Adesso... No, sono uguali quasi. Stanno là sul 30.000 di danno, tutte e due. Aia, hittano velocissimi sti zombie. C'hanno degli hit che non hanno senso. Vabbè, però c'hanno degli hit che non hanno senso. Stai ripetendo gli zombie. Ahia... Ahia, sono malissimo. Facendo il boss. Hittano troppo... Hittano troppo veloce. Poi spawno il cosetto. Non mi fare fuori, zio. Hai killato uno di quei cosi. Spawno dopo che ne killi. Oh, ce l'ho fatta. Tier 2 boss ce l'ho fatta. Oddio, sai che cosa potrei fare? L'assurdo... Quella... L'assurdo of the Dead. È lanciato per bene. Quella... Maledetto. Non so come fanno a hittare. Io non sopporto di essere in combat. Dieci secondi dopo aver fatto tutto. Faccio prima warparmi in un'altra lobby. Recluse Fang Tarantula Silk.